Il problema sicurezza a Catania è diventata una vera e propria emergenza. Dopo il nostro servizio, dove un commerciante stanco dei continui episodi di violenza, chiedeva al nostro microfono più sicurezza, stanotte, come riporta Catania Today, un turista francese, mentre passeggiava con un gruppo di amici, è stato travolto da uno scooter in fuga, riportando gravi ferite alle gambe e alla spalla. Il tutto è successo nella centralissima via Bicocca, a pochi metri da piazza Sesicoro e dalla questura di Catania. Due giovani senza casco a bordo di uno scooter proveniente da via Manzoni, in controsenso, avrebbero scippato poco prima una borsa ad una passante. Inseguiti da un altro scooter, hanno travolto poi il turista cinquantenne. Spostandoci in provincia ed esattamente a Tre Punti di Giarre, una frazione nella Catanese, un brigadiere dei Carabinieri è rimasto ferito di striscia alla testa durante una sparatoria che è avvenuta nella tarda serata di ieri nella caffetteria La Briciola di Tre Punti. A sperare sarebbe stato un avventore che, in compagnia di due donne, poco prima aveva avuto uno scontro con il titolare del locale e stamattina è stato catturato e arrestato un cinquantenne, Giuseppe Marchitto del Popolo, che era agli arresti domiciliari per detenzione illegale di armi da fuoco. E arriva anche il commento del presidente del Consiglio Comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo, quanto accaduto la scorsa notte a Tre Punti, c'è l'arma e c'era trista profondamente, aprire il fuoco in un luogo pubblico frequentato da moltissime persone è un fatto di inaudita gravità. Un pensiero di vicinanza va al Carabinieri, rimasto ferito durante la sparatoria, a cui tutti quanti auguriamo una pronta guarigione. A questo punto urge un incontro con gli organi preposti per cercare di risolvere il problema sicurezza, non solo nella città di Catania, ma come abbiamo visto anche in provincia.